Ben tornati qui a Radio Puginion Air. Fine vita, Schlein, siamo per regolamentare eutanasia. No a legge Zaia in Veneto è occasione persa. Alleanza Verdi e Sinistra ripresenta alla Camera la proposta di legge del governatore del Veneto. Si riaccende il dibattito sul fine vita. Il segretario del Partito Democratico, Eli Schlein, si dice pronta a votare una legge in Parlamento. Siamo qua per rilanciare alcune proposte di legge come quella per assicurare un fine vita dignitoso. È parte del programma del PD della mia mozione. È un'occasione persa quella del Veneto che voleva solo dare dei percorsi attuando quanto previsto dalla Corte. Il riferimento è alla legge della Regione Veneto che voleva regolamentare il fine vita e fatto tornare in commissione. Il non voto del PD è una ferita. Che la destra abbia sconfessato Zaia non stupisce, dice Schlein, ma è una ferita che ci sia stato un voto del PD. Se il gruppo del PD voto a favore e ti chiede di uscire dall'aula, è giusto uscire dall'aula perché l'esito di quella scelta cade su tutti. Siamo per la regolamentazione del fine vita, ha detto la segretaria PD Ellie Schlein al seminario dei deputati PD a Gubbio. AVS ripropone alla Camera la legge Zaia. Ho ripresentato alla Camera la proposta di legge Zaia nata dalla raccolta di firme dell'Associazione Luca Coscioni, bocciata dal Consiglio regionale del Veneto. Lo annuncia la capogruppo di AVS Luana Zanella che spiega. L'iniziativa legislativa del Veneto si proponeva di definire tempi e procedure per l'assistenza sanitaria che va assicurata alle persone che possono accedere alla morte medicalmente assistita, secondo la sentenza della Corte Costituzionale 242 del 2019 sul caso di Fabo Cappato. Di questa norma c'è un disperato bisogno, aggiunge. L'area liberal della destra in Parlamento, se davvero esiste batta un colpo. Per oggi qui a Radio Puginion Air è tutto, ci sentiamo ad una prossima puntata di Radio Puginion Air.